In live, probabilmente stavo rifacendo, stavo facendo ripartire OBS, è arrivato un follower, mi sembra fosse Etnia Perù, o Etnia Perù, qualcosa del genere, quindi volevo ringraziarlo per due mesi, mi son perso il follow in diretta, quindi ti ringrazio a posteriori. Allora, come stavo dicendo, stasera lo scontro sarà tra Scugur95 contro Robben, ricordiamo la prima mappa è Arabia, di conseguenza, prima di andare a vedere le posizioni come abbiamo iniziato a fare ieri, andiamo a vedere un po' i ban che i giocatori hanno effettuato, ricordo che si tratta di ban accumulabili, di conseguenza verrà fatto un ban a testa per ogni partita e questi si vanno a sommare anche nelle partite successive. Allora, partita interessante, entrambi i giocatori sono di buon livello, da una parte adesso possiamo vedere, c'è Scugur95 che è agli Etiopi, mentre invece Robben, Robben2, sta giocando i coreani, ok. Prima di andare appunto a vedere la mappa andiamo a vedere i ban che i giocatori hanno effettuato, Scugur ha bannato gli Aztechi, quindi praticamente Robben non poteva prendere gli Aztechi, mentre invece Robben ha deciso di bannare i maliani al proprio avversario, quindi a Scugur95. Molto bene. Ora adesso passiamo invece alla partita vera e propria. Dunque, possiamo vedere una mappa appunto come diceva, si tratta di Arabia, quindi una mappa aperta, bruttissime risorse per Robben, che sta, c'è una risorsa, questa pietra è veramente, si può raggiungere, però insomma non è la più facile da prendere. Qua in alto c'è un grosso squarcio, veramente bruttissimo, questa zona qua a ovest e a nord, ha una woodland decente, direi più che decente, per il resto mi sembra che sia tutto regolare, a parte questo oro un po' bruttino, insomma non sarà facile da raccogliere in modo più efficiente, però insomma non c'è male. Invece vediamo un po' la mappa di Scugur95, Scugur95 in questo momento che stiamo dicendo gioca gli Etiopi, vediamo che ha un oro qua abbastanza esposto, no in realtà neanche troppo, diciamo che si può facilmente immurare, diciamo dal lato destro si può facilmente immurare, e qua invece dovrà trovare un modo per chiudersi da qualche parte, comunque magari sarà, proverà ad andare all'attacco e in questo modo dovrà pensare un po' di meno alla difesa, quindi vedremo un po' quale sarà la loro soluzione. Andiamo secondo a vedere che cosa hanno gli Etiopi, quindi chissà per quali motivi, dunque i coreani penso che siano stati sciolti perché il nostro buon Robben vorrà effettuare un tower rush, quindi i coreani sono eccellenti nell'effettuare un tower rush, giustamente per il bonus alla raccolta della pietra e per chiaramente il fatto di avere i potenziamenti delle torri gratuiti. Dopodiché invece andiamo a vedere Scugur, vediamo un secondo gli Etiopi che cosa che hanno. Ah, gli arcieri sparano il 18% più veloci e ricevono delle risorse extra durante ogni passaggio d'epoca, il potenziamento a picchiere è gratuito, quindi per niente male. Ricordiamo inoltre gli Shouter che sono veramente molto 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 forti, sono veramente veloci, sono una delle unità più rapide da creare nel modo più assoluto, quindi forse secondi o a pari metri o forse con gli Uscala, adesso non ricordo con precisione. Adesso mi fermo un secondo a parlare che devo aprire la chat di Twitch, quindi eventualmente se qualcuno ha scritto qualcosa adesso non potevo vedere perché avevo il foglio del ban, quindi non potevo visualizzare. Andiamo subito quindi sulla nostra bellissima chat, vediamo se c'è qualche amico che ci sta guardando. Ok, allora, live. Tanto vediamo chiaramente nelle fasi principali tutto tranquillo, si prende un cinghiale, si esplora. Siamo già andati a seconda cinghiale, adesso vediamo che c'è lo scout di Scugo95 che sta adesso osservando la popolazione qua, questi raccolitori di... di arbusti, raccolitori di bacche, dire la verità. E comunque, vediamo, la cosa è molto importante all'inizio trovare subito la posizione del proprio avversario, cosa che ha fatto per esempio in questo momento Scugo95. E in un certo senso, Robin sta cercando di fare lo stesso, anche se in realtà non con lo stesso esito, perché infatti non ha ancora trovato il proprio avversario. Intanto, vediamo se per caso i giocatori hanno optato, ecco qua, infatti vediamo anche Robin, ha optato per prendere il telaio, anche comunque il suo avversario ha deciso di optare per il telaio, poi vediamo che c'è un cittadino idol di Scugo95 che sta contemplando questa pietra, forse vuole, sta pensando alla statua che potrebbe nascondersi dentro. Non lo so, questa cittadina di Scugo95 si è distratta, ragazzi, quindi niente, niente. Tanto ecco qua che finalmente si è ripresa e adesso inizia a prendere un po' di cibo. Vediamo un po' queste case di Scugo95 che, devo dire, non è che mi piacciono tantissimo, poteva chiudere meglio quella zona, però forse effettivamente qua con lo scout, ecco vedete, subito lui ha deciso di andare a trovare subito il proprio avversario, ma in questo modo ha sacrificato qua l'esplorazione di questa zona di mappa e di conseguenza non sa, cioè magari pensa che ci siano qua gli alberi, si chiudono, e quindi qui si è aperto, mentre invece qua potete vedere che in questa zona bastavano due case, o una casa, una palizzata e poteva chiudersi, quindi peccato, quindi chiuderà da questo lato e diciamo ha sprecato magari, cioè poteva chiudersi più facilmente in modo più efficace, ecco, diciamo così. Dato le partite continua, diciamo che siamo arrivati già all'ottavo minuto, non sta succedendo nulla di, particolare a parte questi cinque cittadini in questo momento, che, uh, eccolo qua, Robin, ecco Robin 2 che sta prendendo la pietra, cinque cittadini che stanno andando, entrambi i giocatori ormai stanno per passare d'epoca, ma sarà Robin per prima passare alla fase successiva, all'epoca successiva, intanto vediamo che qua c'è una caserma, ovviamente Robin non l'ha fatto, ma lo siamo curiosi di vedere se lo scout non pensa che avrebbe visto quei cittadini, altrimenti le sarebbe seguendo. Intanto vediamo questi cinque cittadini che cosa faranno, il fatto che Robin 2 non sa esattamente che cosa, la posizione esatta, eccolo qua, andato sta cercando di dimorare innanzitutto, eccolo qua, con lo scout, ma non ha ancora, non ha ancora trovato la posizione esatta del proprio avversario, quindi pensa che dovrebbe essere più o meno in questa zona, qua c'è una caserma addirittura così avanzata, ecco qua, sta arrivando proprio nella zona, ecco qua, ecco, perfetto, vedi l'oro, vedi i minatori, oh, perfetto, ok, qua ci sarebbe molto molto bene qua un tower rush, solo che purtroppo non so se abbia visto che c'è, non ha visto la caserma, non ha visto la caserma, intanto viene preso, oh, riesce a evitare tutte le frecce in qualche modo questo scout, purtroppo, intanto vediamo che Robin 2 sta, cosa sta succedendo? intanto vediamo che ci sono delle piccole scramucce qua, tower rush, no, 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 disastro, disastro, questo è un disastro, c'è lo scout che è tornato in questo momento da parte di Skull 45, oh, per un pelo poteva rischiare di perdere totalmente anche la torre, adesso comunque ci sono le minese che purtroppo Robin 2 non aveva visto, non ha visto queste minese, non poteva sapere, non ha visto, eccolo qua, bene, perfetto, Robin ha appena perso, ha appena persa, 5 cittadini forward, non può difenderli, ci sono queste minese che fanno so che di anni, comunque si è riuscita velocemente a murare, quindi questa torre dovrebbe riuscire a salire in tempo, intanto stavolando le risorse, e bisogna dire che comunque Robin 2 non ha perso neppure un nulla, praticamente ha perso solamente uno scout, guarda, intanto vediamo che ci sono i cittadini che cercano di distruggere queste, oh, questa torre non salirà e quindi praticamente sarà tutto il tempo sprecato, arriva comunque anche le forze, poi i cittadini di Skull 95 che chiaramente ha il vantaggio di, oh, c'è potenzialmente in menata o sta parte di Skull 95, direi che è abbastanza fita la partita, sai che fita la partita perché comunque Skull 95 sta giocando in casa, perché comunque i cittadini proprio in prossimità li spara proprio dal centro città, mentre invece ormai non c'è più molto da fare per Robin, che nonostante tutto, uh, cioè ha perso tutto, quindi ha perso i cittadini, ha perso una torre, ne ha dovuto annullare due, intanto c'è questo cittadino, cosa sta facendo questa donna di Robin? Robin, che sta facendo? Robin? Robin? No? No? Robin? Cosa? Cosa tu fare? Cosa sta facendo Robin? Robin? No? Corona? È impazzito! Boh, forse ha avuto, sta meditando forse magari tramite il sacrificio, tramite il martire di queste, di queste povere donne, vuole espiare i peccati, no è un pazzo, è un pazzo, intanto in base mi sa che non ha nulla, non ha cibo, vuole vedere le risorse di Robin, 240 di cibo, mi sa che ha smesso anche di fare cittadini, vuole fare un'ulina, vuole fare un'ulina, adesso fa, perché ha fatto le schirme? Perché ha fatto le schirme? Non ha cibo? Non sa che si è perso, ok, abbiamo che c'è una fanteria, due fanterie scelte, due picche per, scopo un'altra cinque, che intanto vedete ha cinque fattorie, cinque, cinque fattorie, mentre Robin non ha nulla, non ha più introiti di cibo, non sta facendo, ecco qua, sta facendo adesso i cittadini, però, diciamo che il punteggio comincia, penso che tra un po' comincerà a scendere, prova intanto con qualche fanteria, a fare qualcosa, solo che purtroppo sono tre fanterie, senza potenziamento, non possono fare molto, infatti c'è questa donna, che in fin di vita ha un HP, che basta una spadata nella schiena e muore, e eccola qua, la spadata nella schiena, adesso vediamo che cosa farà, molto, molto sfortunato Robin, diciamo, un po' incauto, diciamo, a mandare lo scauto così avanti, non ha esplorato questa zona, e quindi non ha visto che c'era la caserma con dentro, le unità militari che erano a, e che erano dentro, a dentro a, sì, voglio dire a, mi si finisce a dire a guarigione, invece a guarnigione, volevo dire, e quindi niente, quindi ha perso, diciamo, questa torre qui, potrebbe essere davvero devastante, se fosse stata costruita, se fosse riuscita a salire, quella che sta facendo è impazzito, allora, sempre detto che il traccio è troppo rischioso, se non esplori prima il traversale, è fuori all, se non si ande vai più, lo fai sicuro, sì, sì, no, Pietro è stato molto sfortunato, qua adesso sta facendo una piazzia, adesso con un cittadino, prova a fare una torre, ma, cioè, veramente, c'è, mi sa che non l'ha ancora visto, ah, l'ha visto, non l'aveva, ah, ok, ora l'ha visto, mi sa che non l'aveva mai vista, questa caserma, quindi, mi sa che le ha rovinato un po', un po' di piani, veramente, penso che cominci a far, ecco qua, i punti cominciano a sentirsi, 1500 di punti, conto 1300, quasi 1600, tanto qua, una torre difensiva da parte di, di Scugo, chiaramente, beh, prevenire qualsiasi attacco, anzi no, ha messo due torri qua, in qualche modo, quindi è stata efficiente sta cosa, adesso qua farà una torre, e cercherà di difendere, quindi, questa woodline, quindi, molto, comunque, nonostante tutto, ancora molto fastidiosa, qua purtroppo la woodline, di Robben, abbastanza inefficiente, e si verrebbe qua, una seconda fallimeria, adesso fa una casa, ma adesso avrebbe bisogno di una seconda fallimeria, questa sarebbe la cosa più importante, comunque, sostanzialmente tutto, Robben si sta mantenendo in cargiata, anzi, e continua ad essere abbastanza fastidiosa, questa donna riesce a sopravvivere miracolosamente, con 4 punti vita, intanto vediamo che ci sono un sacco di cittadini, che stanno prendendo l'oro per Scugo, 95, entrambi i giocatori hanno delle risorse molto basse, da Porte Scugo, che ha veramente un sacco di oro al momento nelle proprie casse, vediamo intanto che ci sono qua queste fanterie, che stanno avanzando, anche qua vi promulasse velocemente a Robben, non so se l'abbia visto, oppure se mediciamente si è, ecco qua, perfetto, no, non l'ha visti, però adesso dovrebbe arrivare, c'è questa fallizzata, l'unica difesa tra questi, questi cittadini, e questo intermitteria da Porte Scugo, continua a murarsi intanto, nel frattempo a Robben, perché sa che presto potrebbe arrivare, nemicanza, adesso sarebbe, in questo momento è arrivato, riesce a murarsi velocemente, con una fallizzata, velocemente, però il fatto che ci sono davvero tantissime unità, qua vediamo in serie, qua c'è un passaggio, c'è un passaggio, oppure è chiuso, non lo so, andato via, ma che vengono attaccate anche le case, da parte di Scugo, 45, e tanto vengono fatte altre torri, da parte di Robben, veramente vuole, continua ad essere una spionale a fianco, in questo momento, in questa torre, riesce a prendere anche di mira, questo oro, intanto cerca di murare velocemente, la torre, però non ci riesce, sono tre cittadini che stanno attaccando adesso la torre, però giustamente Robben, anche i cittadini, può combattere, c'è un combattimento, purtroppo però non riesce, in nessun modo, sono troppi cittadini, e di conseguenza questa torre, cadrà, prima o poi, comunque la tua fastidia, ha interrotto comunque la produzione di oro, da parte di Scugo, 50, vediamo che sta succedendo qua, è passato qua, una man at home, se riesce a uccidere questo uomo, no, forse riuscirà a salvarsi, ecco qua sono entrate nella Woodland, la Woodland di Robben, è in questo momento, non esiste più, praticamente, sono tutte, tutte, sacche di carne, sacche di carne in questo momento, da parte di Robben che cerca di, di spedere i propri abitanti, adesso arrivano qua addirittura due cittadini, da parte di Scugo, 45, cos'è che vuole fare? Vuole fare una torre? Vuole ricambiare il favore? Vediamo intanto che sta succedendo, quant'altro questa torre, come sto dicendo, sta cadendo, però fanno un'altra, in qualche modo, Robben, però forse ha voluto fare, prima della torre, ha voluto fare qualcosa, che impedisse, ecco l'attacco, prova a farlo adesso, ma è troppo, è troppo tardi, in questo momento vediamo che, chiama il GG Robben, perché ovviamente non ha più la Woodland, e direi che non può fare più nulla, anche il punteggio, quasi 500 punti di differenza, era, ecco qua vediamo che c'era, il Scugo 95, che sta facendo addirittura un mercato, quindi era quasi pronto per passare, d'epoca, comunque si stava preparando per il passaggio d'epoca, quindi, rip, Tower Rush, da parte di Robben, e io direi, a questo punto neanche, non è successo nulla, qua sta facendo accennatore da parte di Scugo, per vendicarsi, giustamente, direi che lascerai stare, la pausa, passiamo direttamente, alla seconda partita, quindi la prossima partita, quindi Robben ha perso, di conseguenza andremo a vedere, andremo a vedere, la mappa scelta dal perdente, quindi da Robben, vediamo che cosa ha scelto, adesso, interrompo la live, e come sempre, in modo che sia spezzettata, ok, 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 Grazie.